È un periodo storico molto particolare e quindi non possiamo non vedere in questo periodo storico particolare le lacune enormi della politica, una politica che spesso si basa su questioni molto laterali, assolutamente laterali. Le polemiche sono su questioni che non cambiano minimamente la vita delle persone dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle nuove generazioni, dal punto di vista della vita quotidiana. Tutta la polemica politica è sempre orientata verso questioni assolutamente ininfluenti. Si litiga sul Pride mentre non si discute del MES, si litiga sui numeri delle maglie dei giocatori mentre non si dice una parola sulla guerra. Noi siamo vicini al rischio di guerra nucleare e quindi c'è davvero una disparità tra quella che dovrebbe essere l'azione della politica e quella che invece è la miseria di una politica che è palesemente sottomessa ai temi della grande economia, della grande finanza. Noi stiamo cercando di andare controcorrente, cercando però in maniera partecipativa, rendendo protagoniste le persone. Io voglio qua nel caso ringraziare solo due persone che ci consentono anche con il loro impegno militante, sono Matteo Di Cocco e Paolo Pace, che ci consentono anche perché poi la politica deve viaggiare con le gambe delle persone, con l'organizzazione. Noi non avessimo questa organizzazione non potremmo fare queste cose. E quest'oggi abbiamo pensato in un percorso che si porterà in breve tempo a determinare la nostra azione politica in maniera compiuta, abbiamo pensato di evidenziare i punti nodali della questione economica, sociale, politica, culturale, cioè le cose che si dovrebbero fare. Quali sono questi temi? Noi li abbiamo enucleati sul tema pace e guerra, che è la questione fondamentale, la sopravvivenza dell'umanità. Noi non sappiamo se qualcuno pensa di vincere la guerra nucleare, ma se ci fosse guerra nucleare verrebbe combattuta in Europa e noi moriremmo tutti. Questa è una cosa certa, per cui chi vince a noi interessa molto poco perché saremmo tutti all'aldilà. E credo che questo sia un tema che dovrebbe interessare molto le persone. La seconda questione è quella dell'esperienza di questi tre anni, un'esperienza che davvero ha sconvolto il nostro Paese, gli altri Paesi, con questa vicenda del Covid, della cosiddetta pandemia, delle modalità con cui la politica ha dato una non risposta, o meglio, ha fatto una scelta di privilegiare sostanzialmente le indicazioni delle grandi multinazionali del farmaco e di oggettivamente azzerare qualunque capacità del sistema pubblico di rispondere, della sanità pubblica. E questo è un motivo anche di critica politica sul controllo sociale che c'è stato nella vicenda pandemica. Parliamo del Green Pass, parliamo anche e soprattutto dell'introduzione nel nostro Paese della paura. Una paura che ha diviso il popolo italiano. Ha diviso il popolo italiano e questa paura è stata usata sapientemente per dividere. E quando si arriva a questo livello vuol dire che è una politica che sta sotto un'economia e una finanza, che sono pronte a tutto. Quindi, secondo tema, la questione della sanità pubblica. Terzo tema è quello più ampio, dell'energia, del lavoro, del clima, del green, perché senza sviluppo non c'è lavoro e senza lavoro non c'è sopravvivenza. E quindi questo è il tema, secondo noi, nodale, su cui vorremmo porre l'attenzione all'ordine del giorno. Parlavamo delle gambe per far muovere queste idee, ma poi certamente c'è un problema di contenuto. Come progetto politico noi lavoriamo con persone che hanno aderito completamente a questo progetto politico, con persone che sono vicine e che vogliono frequentare questa nostra elaborazione. Abbiamo messo in campo anche una rivista che si chiama Visione, un altro sguardo sul mondo, dove oltre un centinaio di intellettuali, rappresentanti delle professioni, militanti politici e sindacali, ci consentono, ci forniscono un contenuto di grande qualità. E oggi, su questi temi che abbiamo evidenziato, su questi tre temi che abbiamo evidenziato, abbiamo cercato di scegliere le persone che potevano darci un contributo assolutamente originale, in quanto sono effettivamente la punta di diamante di una riflessione ben più ampia che coglie gli strati intellettuali, militanti e anche politici del nostro Paese. E vi presento i nostri relatori che, assieme a Francesco Toscano, che ci segue online, ci consentiranno di svolgere questa conferenza stampa. Alla mia destra, e sarà il primo intervento, Enzo Pennetta, che è il presidente del comitato referendario ripudia la guerra. Voi sapete che siamo, anche noi, appoggiamo questa campagna referendaria, che è totalmente cancellata dalla censura di ogni strumento del mainstream, della comunicazione, della RAI, radiotelevisione, dovrebbe essere uno strumento pubblico. Noi abbiamo fatto tutte le denunce del caso, ma, come sempre, contano i rapporti di forza. E dato che qua si parla della guerra, la censura è totale. Enzo Pennetta, quindi presidente del comitato referendario, ripudia la guerra. Il chirurgo ed eminente studioso delle vicende della medicina, ma anche della politica. Noi siamo stati assieme l'altro giorno e ho scoperto una grande cultura politica storica del professor Joseph Tritto. E invece, alla mia destra, ancora, Daniele Giovanardi, che è responsabile salute pubblica di democrazia sovrana e popolare, nonché è stato direttore del pronto soccorso di un importante nosocomio dell'Emilia Romagna. Alla nostra sinistra, in ultimo, per la conclusione sul tema del clima, del cambiamento del clima, dell'energia, dello sviluppo del lavoro, il professor Franco Battaglia, che è uno dei 1500 scienziati che hanno costituito Clintel, che è un raggruppamento di personalità del mondo scientifico, che controcorrente ha spiegato le verità in merito a tutta questa vicenda del Gring. Mi permetto di citare solo il premio Nobel professor Ivar Giaver, che è norvegese, che ha, diciamo così, costituito la punta di diamante di questa, possiamo definirla, controinformazione rispetto al clima.